Buongiorno a tutti e buongiorno Stefano. Sascha buongiorno, buongiorno a tutti. Ci ritroviamo alla puntata numero 177. Dalla settimana scorsa con l'accelerazione che sta capitando nel mondo, ci sono di nuovo tante notizie di cui parlare. Le prime, oserei dire, le più drammatiche riguardano il 23 giugno, l'attentato sulle spiagge di Crimea con i missili americani, l'attentato in Dagestan e un attentato in Ossezia. Abbiamo avuto una serie di attentati, tutti nello stesso giorno, tra le altre cose, che chiaramente sono collegati. Il terrorismo quindi ucraino si collega a quello dell'ISIS e viene attivato in contemporanea. Di fatto gli ordini partono e i terroristi eseguono. Noi abbiamo visto come sia stata deliberatamente colpita una spiaggia, in quanto non ci sono e non si sentono nei video che sono stati pubblicati, esplosioni secondarie legate o indicanti un fuoco di artiglieria antiaerea che abbia potuto deviare o colpire il missile. Quel missile invece è arrivato fuori dal bersaglio militare, che invece era una salva di cinque missili, tanto per capire. Quattro erano diretti, quindi verso la vicina base militare, sono stati intercettati, uno invece ha seguito una traiettoria diversa dagli altri quattro, non è stato quindi intercettato in quanto non era diretto verso l'area attribuita alla difesa aerea del sistema di difesa aerea sul posto, che quindi ha calcolato andasse fuori rotta rispetto al bersaglio che doveva difendere il computer fa questo tipo di selezione e lo ha quindi ignorato. Il missile ha proseguito la sua corsa ed è esploso a mezz'aria, esattamente come deve fare un missile che porta testate multiple a grappolo, ha disperso le testate sulla spiaggia che solamente grazie al fatto che non erano affollate come la spiaggia di Alassio a Ferragosto ha potuto evitare una strage ben peggiore. Purtroppo ci sono state delle vittime, due di queste, dei bambini, spero non tre, perché uno era molto grave. Ho visto una cifra come 150 feriti sulla spiaggia. Certo, circa 120-150 feriti, un numero di questo tipo, e questo è stato un fatto gravissimo, gravissimo veramente. Molto più grave delle vittime a pur maggiori che ci sono state in Dagestan. Qui passiamo a un attentato che si è avuto su due città differenti e che vede non a caso il Dagestan come luogo in cui avviene questo tipo di attentati. Perché non a caso? Perché già in passato la regione del Dagestan che confina con l'Azerbaijan sul Mar Caspio è stata oggetto di infiltrazione da parte di cellule estremiste che hanno sempre agito in questa zona dietro ispirazione probabile americana come già avevano fatto gli americani in passato in Afghanistan quando hanno armato e spinto i Mujahideen a combattere il governo filo sovietico causando poi l'escalation quindi la richiesta d'aiuto del governo legittimo afgano all'Unione Sovietica perché venisse ad aiutare la popolazione contro i Mujahideen ricordiamo che l'Afghanistan all'epoca era un paese avanzato socialmente anche civilmente non esisteva quasi praticamente più il burka nella società non solo nelle grandi città ma anche probabilmente nelle campagne dopo invece è capitato di tutto C'è stata un'esplosione di wabismo, sharia esatto esatto cioè l'integralismo che è stato nutrito e foraggiato per essere poi sfruttato come un'arma che ha servito agli interessi americani adesso troviamo la stessa cosa in un paese, in una regione dove trovare un Kalashnikov credo che sia più facile che trovare delle caramelle sì o una vanga o una vanga questi terroristi erano tutti armati con dei CAR-15 dei Colta R-15 che costano anche un occhio della testa tra le altre cose quindi è qualcosa che si direbbe arrivato da fuori non di sicuro trovato sul posto hanno colpito in due città Makachkala spero di pronunciarlo bene dove sono state attaccate delle chiese e poi anche una sinagoga presso un'altra pad dunque dove è stato anche tra l'altro è una chiesa dove è stato ucciso un parroco ortodosso sì che io sappia hanno perso anche padre Nicolai hanno perso la vita anche 15 ufficiali di polizia 15 in tutto sono stati uccisi 15 agenti di polizia tra i due eventi quindi un bilancio piuttosto pesante e non è di poco conto notare che due degli esponenti di questo commando fossero i figli di un esponente politico locale c'era anche un terzo che era il nipote ed era il nipote esatto quindi anche questo signore è stato credo fermato sì un funzionario che è stato arrestato quasi immediatamente come cavolo si chiama non ti so dire ma è stato arrestato immediatamente per domande poi si vedrà mentre al checkpoint vicino alla frontiera con la Russia c'è stato un uno scontro a fuoco esatto in Ossezia nello stesso giorno e questo è qualcosa di più che un caso sì da una parte viene colpito una spiaggia con i villeggianti c'è uno scontro a fuoco in Ossezia che è una regione esterna alla Russia ma che probabilmente entrerà a far parte della Russia entro breve e poi il Dagestan sul Dagestan c'è da fare un discorso a parte due giorni prima dell'attentato è stato inaugurato un tratto ferroviario molto importante per la strategia delle comunicazioni dello scambio di merci tra la Russia e l'Iran perché la linea ferroviaria in questione che era stata tra le altre cose oggetto della trattativa per il cessato e il fuoco tra l'Azerbaijan e il Nakhichevan no scusatemi l'Arzak il Nakhichevan nella Repubblica cioè la parte di Azerbaijan staccata dall'Azerbaijan al confine con la Turchia ecco c'era stato questo accordo per creare una linea di ferroviaria per il trasporto merci principalmente tra la Russia costa nord e l'Oceano Indiano o il Golfo Persico quindi a sud nella tratta nord-sud usando sia il Mar Caspio come mare per trasporto merci quindi gli attracchi poi sui porti iraniani sia una ferrovia che è stata inaugurata appunto due giorni fa e che passa proprio dalle città oggetto di attentati e questo quindi è un chiaro tentativo di creare una maggiore instabilità nella regione al fine di sabotare i progetti del transito merci interno al continente euroasiatico che eviti il passaggio attraverso i mari aperti sui quali non può essere esercitato il controllo da parte delle potenze talassocratiche ovvero gli anglosassoni Stati Uniti e Gran Bretagna per capirci sebbene la Gran Bretagna ormai ha la flotta talmente malconcia anche l'esercito non è ben messo e anche l'esercito è piazzato molto peggio del nostro per esempio e ha seri problemi a mettere insieme gli equipaggi per far navigare le sue bagnarole che fanno acqua da tutte le parti nel vero senso della parola tra le quali le due portaerei principe di Galles o come cavolo si chiama e Queen Elizabeth sempre in riparazioni una delle due sono sempre in riparazioni ma più o meno tutte e due hanno avuto dei grossi grossi problemi ecco quindi da questo punto di vista io credo che sia assolutamente legato questo tentativo di destabilizzare il paese agli attentati ucraini sulla spiaggia della regione russa della federazione russa quindi la spiaggia vicino a Sebastopoli che non è vicinissima all'aeroporto ed è fuori quindi dal range di errore che può avere un ATACMS tanto per capirci è a 1 2 3 4 5 6 7 circa 7 chilometri e mezzo insomma è stato un attacco più deliberato che un errore strategico esatto non è non è stato un errore e anche se fosse stato eventualmente danneggiato sarebbe caduto nei dintorni dell'aeroporto non di sicuro a 7 chilometri e mezzo funzionando perfettamente tra le altre cose perché abbiamo visto che quando vanno fuori rotta danneggiati cadono con la struttura praticamente integra ecco e poi esplodono eventualmente ma non è stato questo il caso poi esplodendo a mezz'aria significa che ha raggiunto il suo obiettivo e sta cominciando a disperdere le sue testate esatto perché oltretutto lì vicino se non fosse bastato quello c'era anche un parco divertimenti quindi era una zona assolutamente militare eccetera qualche deficiente ha scritto su dei giornali tra l'altro quindi non dico nel giornale nella giornalista che ha scritto sta porcata ha detto ma lì non doveva esserci nessuno e perché non doveva esserci nessuno è forse un obiettivo militare no non lo è quindi dovevano essere lì esattamente come ci sono gli ucraini sulle spiagge a godersi il mare e nessuno li bersaglia a parte il TCC che se li va a prendere per mandarle al fronte a parte appunto i commissari per l'arruolamenti che li vanno a prendere in ogni dove adesso non so quanto ma sembra che ne prendano forse qualche migliaio al giorno di questi io ho visto le stime ultimamente si parlava di due milioni e cento di persone che sono state convocate e già un milione e cento che sono state rese pronte per l'arruolamento infatti su diversi fronti stanno arruolando le unità stanno arrivando le unità di neo arruolati sono tanti ripeto io Sasha noi l'abbiamo sempre detto il numero di uomini disponibili non è mancante nel senso che tra i 25 e i 65 anni ne trovi per così in una popolazione di 28 milioni di persone di persone che puoi arruolare gli addestramenti anche non è che siano necessari più di tanto abbiamo visto 15 giorni o un mese li mandano già al fronte quindi non è un problema di tempi fanno numero ma per prendere un fucile e sparare un po' vanno bene poi non gli puoi chiedere di fare delle manovre complesse chiaramente non sono militari professionisti sicuramente e soprattutto c'è un problema hanno voglia di combattere di morire per dei disgraziati che li comandano non credo quello ecco dal punto di vista del morale stanno perdendo un sacco di punti non ci sono più quelli invasati dell'inizio della guerra oggi è molto diversa la situazione chi voleva andare a combattere dopo due anni arrotti di guerra c'è andato chi adesso viene arruolato a forza e beh non è che lo faccia ben volentieri di buon grado ecco la speranza migliore che può avere è quella di essere fatto prigioniero in modo che per lui la guerra sia finita e possibilmente chiedere di non essere scambiato ecco se no viene poi rimandato al fronte che io sappia le prigioni russe hanno qualcosa tipo 65.000 prigionieri di questo tipo che non desiderano neanche tornare e che non sono nelle liste ucraine non ho dei dati aggiornati sulle stime dei prigionieri presenti sul fronte russo ho letto alcuni post alcuni pensieri dei prigionieri che si lamentano del fatto che gli ucraini le autorità non vogliano scambiarli e preferiscano scambiare piuttosto dei neonazisti con una fede incrollabile piuttosto che chiunque altro non sia come loro comunque possiamo anche far vedere eventualmente il punto in cui sono caduti i missili in modo da rendersi conto del fatto che non ci fosse nulla di militare in quella zona quando è il momento di guardare le mappe molto volentieri Stefano benissimo perché questo lo dicevo perché non è perché è sbagliato dire non dovevano essere lì cara la mia signora che scrive queste cose perché l'altro giorno a Odessa c'è stato un festival musicale per dire con giovanissimi in modo che non potessero essere arruolati perché sotto i 25 anni appunto sapete non arruolano al momento e guardate che quelli non vanno ad arruolarsi tra le altre cose non è che c'è la fila non è che se si presenta uno volontario di 18 anni non lo accettano ma non ci vanno e nessuno era pubblica la notizia c'è stato ma nessuno nessuno ha sparato un missile un drone contro questo questo festival perché perché la Russia non è un paese terrorista ovviamente e non bersagli civili volontariamente quando colpisce degli edifici che non sono direttamente militari è perché ha motivo di ritenere che siano usati dagli ucraini per un accumulo temporaneo di truppe un ricovero per truppe un deposito di materiali un deposito di munizioni anche o un comando perché appaiono tutti presenti in strutture del tutto civili dai palazzi normali adibiti improvvisamente sgombrando le persone civili al loro interno adibiti interamente a ricovero per i soldati oppure strutture che da scuole diventano magari comandi e altre cose persino persino ospedali non dubito che sia il tuo canale che il mio abbiano già mostrato immagini di come ci fossero leppi a castello e gente in divisa militare che veniva portata via si vedeva benissimo addirittura in alcuni casi erano degli asili palesemente e poi torniamo al discorso del fu presentato rapporto di Amnesty International poi ritirato a forza per pressioni delle solite e noti gruppi internazionali Stati Uniti e Unione Europea però denunciava io ce l'ho scaricato denunciava chiaramente la presenza di truppe ucraine all'interno di strutture ospedaliere l'uso sistematico dell'artiglieria in vicinanza e all'interno di quartieri densamente abitati tutti crimini di guerra tutti crimini di guerra a quelli chiaramente che poi provocavano il fuoco di risposta legittimo da parte dei russi aggiungiamo l'abbondanza di esempi in passato dell'uso di armi occidentali contro i civili a Belgorod è stato colpito con i missili Vampire di produzione cieca paese della Nato il centro di Belgorod dove c'era un parco per le famiglie sono stati colpiti più volte a Gorlovka mi ricordo c'è la statua dedicata alla Madonna di Gorlovka che è quella ragazza l'ho ricordato altre volte di 22 23 anni che aveva in braccio la figlia di due anni martoriate e straziate entrambe dal fuoco dei missili MLRS ucraini nel 2014 senza contare Donetsk i teatri colpiti e tutto il resto Donetsk gli ospedali e via dicendo e a Donetsk proprio fu colpito il capolinea degli autobus ricordiamocelo questo causò un enorme numero di morti mi sembra più di 20 perché furono centrati uno o due autobus e all'epoca ricordo ancora Euronews che diceva che era il fuoco dei filorussi che era caduto su Donetsk e io dicevo ma come i filorussi si sparano da soli pur di non dire che era il fuoco dell'artiglieria ucraina come poi è stato ampiamente dimostrato comunque esatto esatto quindi non è la prima volta che succede è la prima volta però che i russi chiamano l'ambasciatore americano e gli chiedono di rendere conto e lo accusano direttamente di complicità in un atto terroristico quindi per la prima volta i russi hanno fatto un passo diplomatico che tende a puntare il dito direttamente contro l'amministrazione americana perché questo tipo di impiego intanto di armi americane con in volo forte 14 o 15 non mi ricordo in volo che stazionava lungo le coste della Chirinea più verso però il lato turco chiaramente in prossimità tra l'altro delle rotte civili quindi per pararsi il deretano e potrebbe avere guidato coadiuvato l'impiego di questi ATACMS però c'è da dire una cosa per colpire un obiettivo militare come ad esempio un aeroporto oppure un porto l'uso del Global Oak in questo caso diventa efficace perché controlla dove si trovi ad esempio la nave che è ormeggiata lì piuttosto che nell'altro molo ma un obiettivo fisso o gli aerei parcheggiati in quella zona dell'aeroporto se ci sono o meno ma una spiaggia da questo punto di vista non serve assolutamente il controllo del lancio da parte di un Global Oak perché il bersaglio è lì e lì resta non è che oggi c'è domani non c'è viene spostato no le coordinate le sanno e vanno a colpo sicuro quindi da questo punto di vista ritengo che per questa volta tra le parentesi non servisse proprio l'impiego del Global Oak in sé però l'uso dell'arma americana beh quello è pesante per un uso contro i civili un'arma a grappolo è pesante è anche una tipologia di missile che viaggia molto rapidamente a bersaglio ed è difficilmente fermabile difficilmente si può anche avvertire la popolazione in tempo di scappare nei rifugi quindi è difficile che si possa fare questione di secondi ovviamente non è come un drone che viene avvistato a qualche chilometro di distanza è qualcosa che arriva molto rapidamente esattamente esattamente va bene possiamo che altro dovevamo dire possiamo dare la notizia che è uscita da poco una bella notizia una volta ogni tanto abbiamo avuto diciamo è uscita da poco la notizia che sarebbe stata riconfermata Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Europea penso che stiate facendo i salti dalla gioia e la ciliegina su questa montagna di materia in forme organica comunemente detta merda è la nomina di Kaya Callas come nuova Lady Pesc per chi non lo sapesse sarà la figura altamente morale e pacifica che rappresenterà la nostra unione nel mondo ecco in quanto avrà le funzioni di ministro degli esteri spero che non siate trassaliti dalla sedia o che stiate guardando in piedi quindi svenuti dalla gioia e dalla contentezza cercate di riavervi alla svelta perché bisognerà sopravvivere ai prossimi anni le brutte notizie non giungono mai da sole chiaramente con questa nomina qua c'è neanche un'altra c'è la di partita di Stoltenberg e l'arrivo di bene ai vertici della Nato se già non vi è bastata la bella notizia della Ursula ecco mi piacerebbe poi vedere quali quali partiti abbiano poi sostenuto all'interno dell'Unione Europea questa bellissima esperienza di successo di questi cinque anni di governo di Formula Ursula per cui ringrazio anche i nostri cinque stelle che la votarono cinque anni fa grazie grazie veramente ecco abbiamo avuto la nomina del nuovo segretario generale della Nato tutti velocemente tutti nello stesso periodo ecco non conta un cazzo il generale il segretario generale della Nato e infatti fu per quello che dissi non ci andrà mai Draghi che invece punterebbe al posto della von der Leyen caso mai e invece forse gli è andata male anche lì ma non si può dire magari va al fondo monetario internazionale che lui è nelle sue acque diciamo che è nelle sue acque che è nelle sue acque quindi vedremo vedremo un attimo di sicuro non punta un posto che non conti un cazzo vuole un posto di potere ecco al posto di Stoltenberg che era Nomen Omen adesso abbiamo Mark Rutte se non sbaglio ecco che è il premier trombato delle ultime elezioni in Olanda una persona che ha in forte disprezzo e spregio proprio il popolo italiano quindi gioite popolo per queste nomine che fanno un grande onore alle nostre istituzioni europee civili e militari pensate un po' che bel mondo è quello occidentale in cui c'è toccato di nascere e crescere ovviamente 30 anni fa non avremmo mai pensato di toccare simili vette delle vette al contrario ovviamente questo individuo qua ha anche dei link con Klaus Schwab che lui negava platealmente ma è stato pizzicato dove aveva mandato una lettera di ringraziamento d'amore sì di ringraziamento ma immagino anche d'amore a Klaus Schwab che gli aveva mandato il suo libro e in Parlamento in Olanda l'avevano pizzicato malissimo su questo argomento quindi immagino anche che fosse per questo che in Olanda non è andato da nessuna parte e com'è che questi perdenti comunque sia nei loro paesi riescono ad avere delle posizioni ben più in alto poi nella comunità europea questa è folle come cosa o nella Nato ecco per quel che vale se hai una domanda sai che non posso no 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 lo so no no era retorica non oso non oso sondare oltre ecco mamma mia è proprio di sonde che stiamo parlando eh maledetti vabbè andiamo a vedere guarda a 24 giugno io ho una notizia lampo così che il convoglio di Orban è stato colpito da da una macchina questa è anche un'altra coincidenza non vogliamo certo sottolineare ieri è stato tra l'altro oltretutto porgo le condoglianze alla famiglia perché un poliziotto della scorta eh motociclista è stato pesante investito in pieno dall'auto di questa 69enne alla guida eh e ha perso la vita e un altro verte in grave condizioni però è strano che abbiamo preso proprio casualmente il convoglio di Orban ecco e proprio casualmente tempo fa un uno sfigato si è messo a sparare filo ucraino lo scrittore pacifista si è messo a sparare ecco e ha è andato a segno con quattro colpi a Fizzo il primo primo ministro slovacco che per fortuna si è ripreso bene si sta riprendendo sempre meglio e gli auguro una pronta e completa guarigione ecco sì le notizie chiaramente tornano a essere legate fondamentalmente all'Unione Europea perché di oggi abbiamo l'inizio dei negoziati per l'adesione della Moldavia e dell'Ucraina all'Unione Europea ecco sì proprio quello di cui abbiamo bisogno mancavano giusto due paesi come quelli per completare si comportano abbondanti fonti di ricchezza e valori umani soprattutto da parte dei governanti attuali che hanno una Maya Sandu che disprezza il suo popolo perché protesta contro le misure che lei ha preso che hanno causato la rovina della popolazione già in difficoltà e lei se ne frega altamente proprio che procede in tradimento al suo paese verso una possibile unificazione con la Romania oltretutto e e questo è un qualche cosa di davvero assurdo ecco oltretutto poi avanzano i colloqui per l'unificazione per l'ingresso nell'Unione Europea con loro la Turchia quanto tempo è che aspetta di poter entrare e non viene fatta entrare ecco chissà che cosa penseranno loro e la Bosnia oltretutto ha mille difficoltà quel paese martoriato certo però tutti questi paesi che sono stati tenuti fuori rimangono in coda così a lungo rimangono in coda io fossi nella Turchia ci penserei mille volte oggi ad entrare in un'Unione Europea che ha sempre meno senso tra le altre cose ci stiamo stiamo mettendo le mani su un'Ucraina che pre-2022 magari valeva qualcosa ancora e oggi diciamo che è stata completamente smontata sia dagli attacchi russi che dalle politiche ucraine infatti la Turchia per voce del premier Erdogan ha detto che si è rivolta ai BRICS proprio per il fatto che l'Unione Europea non le vuole far entrare punto quindi andranno verso altri Lidi fortunatamente loro hanno altre opzioni hanno altre opzioni sul tavolo cosa che noi proprio non ci possiamo neanche permettere di pensare perché se ci pensiamo ce l'avremmo anche noi se avessimo un'altra classe dirigente solo che tutte le volte che c'è l'occasione di cambiarla non la cambiamo ecco molto semplicemente ma anche la cambiassimo abbiamo degli esempi come facevi tu prima del Movimento 5 Stelle che invece migliorare la situazione già devastata in precedenza beh la peggiora da questo punto di vista dissi per tempo perché non non rappresentava assolutamente un cambiamento e non mi sbagliai come altre notizie della giornata di oggi ci sarà l'Europa che democraticamente vieterà l'accesso a tre media russi da oggi 25 giugno Riano Vosti Svestia e Rossisca e Agaseta bellissima bellissima prova tra le altre cose nel pacchetto di sanzioni il quattordicesimo che arriva dopo una serie vincente e raggiante di precedenti pacchetti di sanzioni che ci sono costate un aumento esponenziale dei costi energetici e quindi dei costi di produzione per i prodotti nostri un aumento del costo delle nostre vite a fronte di stipendi che sono rimasti esattamente quelli pre-crisi di potere d'acquisto e quindi al palo ecco noi adesso ne variamo un quattordicesimo terribili questi russi mamma mia terribili terribili hanno delle ritorsioni tremende cioè noi perché noi li lanciamo questi boomerang e quelli si abbassano e ci tornano in faccia e ne lanciano altri contenti contenti di farlo tanto il problema è che chi le lancia non è la testa che poi se li becca addosso siamo noi quelli che ci mettono la testa e la faccia e se li prendono questi boomerang sui denti il problema di questo quattordicesimo pacchetto è che se non ci fosse da piangere farebbe ridere ecco perché oltre a sanzionare delle diciamo fonti di informazione quali Svesti Ariano Vosti e anche l'altro canale Rossiskaya Gazeta che poi se uno le vuole vedere se le guarda se uno non se le vuole vedere non se le guarda non è che ti vengono a cercare a casa no? ecco non è che accendi la tv oh cavolo c'è un canale russo oh cavoli oh guardiamo un po' il telegiornale della Rossiskaya Gazeta vediamo che cosa dice assolutamente ecco quello che ci riguarda personalmente è il fatto che in Russia le sanzioni non abbiano tolto la visibilità ai media occidentali perché loro se ne sbattono altamente di quello che dice l'Occidente sui propri media di regime i loro cittadini sono liberi di guardarsi se vogliono la BBC in russo e poi di valutare quello che dice se corrisponde al vero sulla situazione in Russia o se sia una palla che li fa ridere perché invece a noi i nostri media o i nostri governanti proibiscono e oscurano i media alternativi o della controparte perché li temono chissà di che cosa hanno paura evidentemente temono che ciò che dicono di noi la popolazione possa dire cazzo ma hanno ragione è così e che quindi capiscano che ciò che raccontano i nostri media siano delle gran vaccate come spesso come spesso c'è capitato di notare quando dicono che non c'è povertà in Italia e poi le statistiche escono fuori e dicono che hanno 6 milioni e mezzo 7 milioni di poveri in Italia quando prima dell'euro erano un milione e mezzo e 30 anni fa meno di un milione no ecco allora qualcuno può iniziare a dire beh ma i successi di questa Unione Europea dove sono dov'è la ricchezza che c'era stata promessa quando abbiamo guadagnato di più come se avessimo lavorato di meno guardi tutte le aziende che sono state chiuse chiuse trasferite con i fondi europei all'estero e ce n'è un lungo esempio noi abbiamo perso purtroppo centinaia di migliaia di aziende nel nostro paese eravamo la quinta la quarta potenza economica o la quinta numerica la quinta la quinta oggi che cosa siamo quindicesimi diciottesimi basta solo pensare ad aziende importanti come l'ansaldo ecco che produceva turbine cose di questo tipo insomma sparita completamente tutto devastato ci hanno imposto le privatizzazioni ci hanno imposto l'ordoliberismo ci hanno tolto i diritti sociali ci hanno regalato dei diritti civili di cui fregarà un cazzo al 99% della popolazione italiana e riguardano l'1% per carità giustissimo ma tutte queste campagne fatte per un 1% della popolazione non riguardano la vita del 99% che invece è toccata dai diritti sociali che sono stati aboliti dall'informazione non si parla più di riguadagnare il diritto alla salute di riguadagnare il diritto allo studio i costi dello studio degli studenti aumentano adesso hanno aspettato Sascha che finissero le elezioni che il popolo di Caproni votasse per i loro amati leader e gli altri se ne stessero placidamente a casa per favorire l'operazione ai boss dell'Unione Europea perché così è e poi hanno atteso l'inizio degli europei di calcio in modo che tutta la popolazione si distratta dal pareggio dell'Italia con la Croazia per dire per mettere in stato d'accusa di infrazione il nostro paese e altri ecco quindi noi ci avviamo a delle misure draconiane per rientrare nel debito pubblico perché ricordiamoci noi abbiamo un debito pubblico in valuta estera e siamo contenti di questo evidentemente perché taglieranno la scuola taglieranno la sanità taglieranno i servizi che abbiamo preparatevi e quindi a aumenti delle liste d'attesa o a dover pagare molto di più per le prestazioni il ticket magari verrà ritoccato abbondantemente in aumento ma poi c'è anche il diritto al lavoro Stefano a me sembra che tutti quelli che si lamentano si prendano delle gran belle manganellate in testa tutti quelli che si lamentano che chiedono aumenti salariali che chiedono migliori condizioni di lavoro non bestiali vengono manganellati e tutto lo condiamo con 1500 morti all'anno sul posto di lavoro ecco un record in aumento tra l'altro dovuto alla maggiore insicurezza la maggiore precarietà nella quale i nostri lavoratori me compreso nuotano quotidianamente specifico ma riguarda tutti noi la maggior precarietà nella quale dobbiamo muoverci come posto di lavoro ecco questo è la fonte principale dei 1500 morti all'anno circa di morti bianche sul lavoro non è da imputare ad altre cose se non al fatto che le imprese sono in grado di lavorare con meno controlli perché casualmente tutti gli uffici che sono deputati al controllo sono stati ridotti e e quindi dove ci sono meno controlli c'è più irregolarità c'è maggiore irregolarità l'ultimo caso quello dell'indiano da ragazzo indiano è emblematico l'età pensionabile anche che comincia a salire in maniera e beh quando vedi morire in un cantiere edile un signore di 67 anni inizia a chiederti ma a 67 anni era ancora sì era ancora lavorare in regola tra le altre cose mentre invece doveva essere in pensione se fossimo stati in un paese normale ecco perché quei lavori sono altamente usuranti delle condizioni che sono forse addirittura peggiori della Grecia o trattamenti che cominciano a raggiungere quei livelli sì nel senso che entriamo in una spirale che ci porterà a dei livelli di shock sociale molto simili a quelli della Grecia il tutto naturalmente nell'inconsapevolezza perché siamo stati rapiti dal come ha detto l'amica Pabble dal Tentation Island fatto nel G7 in un villaggio turistico che non aveva niente a che spartire con il resto del paese con tutte le località vere che ci sono in Italia porti un G7 in un residence turistico artefatto falso una rappresentazione finta di un qualcosa che non c'è non esiste e ignori tutto quello che invece c'è di reale nel paese questo è veramente il massimo del minimo che si poteva avere da un governo se fatto complimenti Malone tremiamo ovviamente per i mesi prossimi perché insomma le caratteristiche che già stanno dimostrando in questi primi giorni potrebbero peggiorare esponenzialmente nei prossimi mesi ecco già passiamo a parlare del conflitto abbiamo ancora qualche volentieri Stefano al momento abbiamo la situazione in Libano estriscia di Gaza anche se vogliamo dire qualcosa lì sta cominciando sta cominciando a scaldarsi presentemente nei giorni scorsi era apparso tra l'altro un video diffuso da Ezbolla che presentava il volo il sorvolo a voli di Gabbiano di un drone spia di Ezbolla che ha sorvolato le basi militari israeliane le ha sorvolate ha fotografato e filmato le basi e tutte le installazioni militari del caso e poi ha fatto ritorno tranquillamente senza essere rilevato e abbattuto o abbattuto si parlava di Ashkelon di Mona non è il primo ma arriva alla conclusione di un lungo percorso di sorvoli per mappare gli obiettivi principali dell'esercito prossimamente aggressore israeliano contro il paese aggredito in Libano hanno finito nella striscia di Gaza Stefano Raffa ed intorni allora hanno preso il pieno controllo intanto del confine tra la striscia di Gaza e l'Egitto e quindi hanno proceduto poi col bombardare e ammazzare un altro tot di gente nei campi profughi nelle zone delle città nell'ultimo mi sembra siano morti 70 civili fanno quello che vogliono fondamentalmente fanno quello che vogliono senza che nessuno gliene chieda conto tu hai sentito siamo al 14esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia quanti ne sono stati fatti contro Israele visto che sarebbero molto più efficaci quelli contro Israele che ha un'economia chiusa e dipendente praticamente dall'Occidente per il 90% non abbiamo sentito parlare di neanche mezzo pacchetto ovviamente perché non si parla di sanzioni nei loro confronti come Osist quindi siamo complici se non siamo spettatori i nostri vertici parlano di dure condanne morali dure condanne verbali ma all'atto pratico non fanno nulla per salvare i civili i bambini quanti bambini sono morti 17 18 mila si sono perse le tracce nell'ultimo rapporto che è uscito di 21 mila bambini si no ma è proprio il conto che si è perso il conto di quante persone siano morte ormai da un paio di mesi mi sembra di capire che non se ne parla proprio più del numero di morti che ci sono 37 mila erotti sono le cifre ufficiali cioè quelli che sono stati identificati come tali ma bambini spariti di cui si sono perse le tracce che non vengono più rintracciati nei campi sono 21 mila erotti quanti sono i morti in tutto quindi quanti 40 50 mila era veramente necessaria una una rappresaglia simile evidentemente non era una rappresaglia c'era la volontà di sterminio appunto quello che è fallito nel piano di Netanyahu è che loro volevano liberarsi di Hamas togliendo tutto il popolo palestinese da Gaza liberarsi dei palestinesi più che di Hamas volevano liberarsi dei palestinesi e con questo liberarsi di Hamas punto siccome non sono riusciti a fare questo hanno perso eppure hanno perso eppure in questa condizione qua vogliono aprirsi un nuovo fronte anche con gli sciiti di Hezbollah sembra una follia sì sì e questo fronte io ho visto l'altro giorno continue colonne in alcuni video e foto di forze corazzate israeliane che si spostano verso nord è anche ovvio che senza il nostro appoggio non andrebbero da nessuna parte senza il nostro appoggio non andrebbero hanno avuto le forniture militari hanno avuto il l'approvazione di fatto perché non è stata non essendo stata messa nessuna sanzione contro di loro di fatto di fatto hanno avuto il via libera perché se avessero emesso delle sanzioni si sarebbero preoccupati e invece non hanno fatto niente quindi loro sanno di poter andare avanti oltretutto diranno che agiscono per difesa chiaramente perché è già un po' che i nostri media continuano a dire in risposta a un duro attacco di Hezbollah abbiamo bombardato le forze israeliane hanno bombardato un villaggio hanno bombardato quell'altro hanno ucciso un comandante militare che poi se anche hanno ucciso tutta la famiglia i vicini di casa e altro non frega niente a nessuno chiaramente perché tutti quei morti civili siccome non sono europei non gliene frega un cazzo a nessuno perché altrimenti ci saremmo ricordati dei quasi 11.000 morti delle sole tre precedenti operazioni militari israeliane a Gaza prima del 7 di ottobre quasi 11.000 civili morti ecco se qualcuno si domandasse come è uscito fuori da dove è uscito fuori il 7 di ottobre vada a vedersi le precedenti operazioni militari e adesso fanno la stessa cosa su Hezbollah Hezbollah è una forza che difende il Libano e quindi siccome ricevono i bombardamenti da parte degli israeliani rispondono e questo per Israele è un'aggressione perché se tu rispondi a mio attacco vuol dire che mi aggredisci e quindi io devo punirti più severamente come quando io attacco le basi siriane in territorio siriano è guai se la Siria risponde attaccando i milaieri se no vuole la guerra ecco è diritto di Israele attaccare aggredire sterminare i vicini ma non è per l'opinione occidentale non deve essere un diritto rispondere contro gli attacchi di Israele Corbyn recentemente tra le altre cose se avete modo di leggerlo e se c'è in versione italiana leggete questo libro di Corbyn che ha detto in un'intervista che quando doveva diventare segretario dei labor venne sottoposto a una sorta di terzo grado da parte dei deputati labor britannici che gli chiesero se lui sarebbe stato disposto ad appoggiare in toto le decisioni e le azioni di Israele e lui ha detto ma nella maniera più assoluta no e infatti i corpi non l'abbiamo più visto e infatti l'hanno fatto saltare lo mandarono alle elezioni con metà o più del partito degli esponenti principali del partito che gli facevano la campagna contro che lo accusarono di antisemitismo tutte cose assurde la qualunque una campagna mediatica tremenda contro di lui che spinse l'elettorato a confermare quelle sorte di dementi dei conservatori che poi abbiamo visto che fallimento hanno portato avanti in questi anni passando da un premier all'altro senza soluzione di continuità addirittura avevano espresso l'Istras che aveva persino perso nei sondaggi contro una lattuga sì che è durata quanto cinque giorni ma qualcosa del genere a fronte una campagna che l'aveva portata lì che la avvicinava alla Thatcher ci ricordiamo ecco come ha fatto la prima manovra di governo è stata immediatamente defenestrata ma anche Johnson non è durato tantissimo ovviamente Johnson non è durato tantissimo ha la responsabilità ad esempio del 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 veto sulla proposta di pace al quale avevano aderito sia l'Ucraina che la Russia in Turchia l'ha confermato ancora recentemente a Rakami al capo del partito di Zelensky che avessero raggiunto questo accordo che poi a causa dell'opposizione proprio britannica di Boris Johnson che andò a dire che questo accordo non sa da fare né ora né mai per citare il Manzoni da buon bravo lui e vieni guarda abbiamo un ospite fantastico la Chichi che mi chiedevano da un po' come mai non arrivasse adesso è arrivata ma perché io non la obbligo certo a venire nei video quando vuole arriva e si presenta ecco è venuto a salutarvi ecco noi abbiamo questa situazione in cui l'Occidente appare come assolutamente allo sbando rischiamo a breve di avere i maggiori fautori del conflitto fuori dai giochi e cioè i leader tedeschi leader francesi leader britannici e i leader americani che hanno iniziato il conflitto fuori dai giochi casualmente in Russia ci sarà ancora il Presidente Putin esattamente come in Siria c'è ancora il Presidente Assad e rinnovo l'occasione colgo di nuovo l'occasione per rinnovare i miei auguri di guarigione ad Asma Assad che è purtroppo ammalata ecco spero che si riabbia presto e la rosa di Damasco come l'avevamo chiamata in una puntata va bene dai andiamo alle nostre andiamo alle mappe Stefano alle nostre mappe e vediamo un po' quindi devo far la condivisione avvia condivisione ecco qua allora abbiamo una serie di droni tra le altre cose l'altro giorno nel settore qui a sud di Krasnodar sì Krasnodar c'erano stati attacchi in massa con una cinquantina di droni addirittura in una botta sola da parte degli ucraini quindi attacchi pesanti però erano stati per fortuna respinti o danni limitati c'era stato un serbatoio mi sembra di carburante colpito ma nulla di particolare hai notizie Stefano su una centrale chimica di Krivoi Rog che starebbe perdendo delle sostanze chimiche nocive i russi stanno mandando degli allarmi dicendo alla popolazione di andarsene le autorità ucraine dicono alla popolazione che no non è niente di grave tutto nella norma una fabbrica chimica sì sembra che con le interruzioni di corrente una manutenzione tutt'altro che decente sembra che ci siano state delle fughe allucinanti le immagini i video dei cittadini mostrano delle fughe chimiche un cielo arancione pazzesco no avevo visto qualche immagine ma non avevo capito bene di che cosa si trattasse negli ospedali sembra che stiano cominciando a ricoverare migliaia di persone intossicate può anche non essere una fabbrica chimica ma dei prodotti chimici usati nella lavorazione dei metalli sì io non so esattamente di che cosa si tratti che infrastruttura sia so che nella zona industriale so che la gente comincia a lamentare dei problemi perché anche nelle lavorazioni dei materiali ad esempio qui abbiamo caolino e altre cose si usano prodotti chimici quindi questa è una zona sia siderurgica che come vedete qui c'è un'acciaieria credo dell'ArcelorMittal presente e poi ci sono altre altre ditte che si occupano di varie cose come vedete ci sono distretti industriali a perdita d'occhio è una città tipicamente sovietica costruita intorno a degli agglomerati industriali enormi come vedete sono estesi praticamente quanto la città sono quasi tutte miniere in questa zona come vedete ci sono miniere nel nel sottosuolo ci sono miniere nel sud anche a cielo aperto adesso andiamo a vederle eccole qua guardate queste sono come dei dei gironi infernali che scendono verso il basso e come dice hanno tutte quasi tutte un indirizzo siderurgico sì quasi tutte con indirizzo siderurgico e sono ecco quindi è possibile che ci sia stata qualche non ho indicazione ad esempio negli ultimi giorni di attacchi proprio sulla città negli ultimi tre giorni non ci sono stati attacchi che io sappia questo è stato provocato nella settimana prima sì era stato attaccato l'aeroporto mi ricordo qua come vedete a una settimana c'è l'attacco sull'aeroporto ma la notizia è di due giorni fa non di più nelle 72 ore recenti no nelle 72 ore recenti no allora andiamo a vedere intanto l'accumulo di forze che sta aspetta un attimo prima di iniziare quello nell'ultima settimana abbiamo avuto una serie di attacchi nuovamente contro le strutture energetiche e militari prettamente militari dell'Ucraina nella parte ovest da Kiev verso Leopoli ecco quindi sono stati colpiti diversi diversi aeroporti e alcune centrali energetiche i missili che erano finiti continuavano a volare strano ma perché rimbalzano sì ecco allora andiamo quindi a vedere adesso il fronte più preoccupante che è quello di Kharkov perché c'è un continuo accumulo di forze ucraine prima citavi circa un milione di nuovi soldati ucraini pronti ad essere inviati presto tardi al fronte ecco molti vengono già inviati nel settore di Krivoi Rog perché Scusatemi di Kharkov perché fanno da accumulo per una offensiva che vogliono iniziare le forze ucraine tra le altre cose devo annotare che è stato sostituito il comandante Sodol che è il comandante di un settore vicino a ucraino vicino a Gorlovka Toretsk quelle zone lì con il comandante Nyatov che era invece in passato stato il comandante della 36esima brigata dei Marines ucraini unità che conosciamo perché purtroppo per loro ha subito pesantissime perdite in questi due anni rotti di guerra tanto da essere dovuta essere ritirata tre volte per essere ricostituita avendo perso le capacità di combattimento ecco la prima volta era stata devastata mi ricordo nella sua caserma a Nikolaev se ricorderete erano arrivati nei dormitori una salva di missili credo calibre e li avevano devastati c'erano state centinaia di vittime in un colpo solo poi erano stati inviati mi sembra a Mariupol per la difesa della città e lì erano stati anche lì avevano subito pesantissime perdite poi furono impegnati nella campagna Kherson dove anche lì hanno subito pesantissime perdite e infine e infine furono poi ritirati dal saliente dalla testa di ponte di crinchi dove purtroppo sono stati anche lì decimati ecco adesso erano stati poi spediti qui nel fronte di Kharkov la 36esima e ha subito pesanti perdite anche nell'attacco verso per mantenere il controllo di Volchansk insomma il generale che è stato sostituito è come se l'avessero promosso se l'hanno tolto di lì ecco eh sì praticamente sì ma era già diventato un vicecomandante del gruppo sud e in precedenza era stato il comandante di questa martoriata unità ecco allora non so da quanto fosse però vicecomandante del gruppo sud una cosa ho notato che c'è una sorta di avvicinamento del della concentrazione dei colpi qui vediamo Lipsti la città che subisce negli ultimi tre giorni quindi 72 ore pesanti bombardamenti con FAB bombe FAB c'è stato un ampio uso di FAB 500 in un video uscito ieri si è visto un bombardamento del giorno precedente che in un colpo solo un aereo un SU-34 aveva sganciato probabilmente o due caccia bombardieri SU-34 avevano sganciato quattro bombe FAB 500 che sono arrivate sui bersagli designati in gruppo e hanno avuto un effetto devastante dopodiché ci sono state le le FAB 1500 che sono arrivate pesantemente anche loro sui vari punti del fronte come potete vedere anche a Volchansk ma quello che mi ha colpito è che c'è tutta una linea qua di fronte dove sono state usate queste queste bombe vediamo un po' se ce ne aggiungono qualche d'una ecco che sono state usate pesantemente sempre più vicino alla linea del fronte questo che cosa vuol dire vuol dire che l'accumulo di forze ucraine tra l'altro sono arrivati anche pesantemente su Kharkov l'accumulo di forze ucraine è crescente è sempre più vicino al fronte quindi io credo che a breve potremo vedere partire un'offensiva più pesante da parte degli ucraini non so se avrà successo chiaramente però non credo che al momento a meno che i russi non decidano di scendere in campo con forze più numerose possano avanzare ancora più di tanto perché c'è proprio un divario numerico di soldati sul campo che è del tutto a favore degli ucraini il problema per gli ucraini è che stanno subendo pesanti perdite di materiali più che di uomini ed è quello esattamente a cui miravano i russi concentrare il più possibile in una zona di fronte ristretta un numero elevato di nemici per colpirli con le bombe plananti che stanno facendo effettivamente dei disastri gli ucraini hanno provato a rispondere con le fab 39 e cioè le bombe plananti strette quelle che lanciano con gli mlrs le GBU 39 intendi si scusami le GBU 39 si lo chiamate fab per dire che sono comunque plananti eccetera e che sono comunque bombe sono GBU 39 queste hanno colpito nella zona dei russi nella zona qua dove combattono e spingono gli ucraini il problema è che non hanno lo stesso effetto di rompente delle fab 500 delle fab 1500 e adesso delle fab 3000 che tra l'altro le fab 3000 inizialmente sembravano avere un problema di aggiustamento del tiro perché sembravano mancare di pochissimo il bersaglio ma io non capivo sinceramente siccome non vedevo poi nel video il buco nel terreno sembrava addirittura che volesse arrivare a poca distanza dal terreno ed esplodere per causare il maggior danno possibile con l'onda d'urto tra le altre cose bisogna segnalare la difficoltà del trasformare quei dispositivi gli umpc per poter sostenere il peso perché innanzitutto per le due bombe da 250 e da 500 funzionano benissimo e l'abbiamo già visto in passato per quelle più pesanti logicamente gli stessi sistemi richiedono accorgimenti diversi e quindi è ovvio ma credo che abbiano un'apertura all'area di una decina di metri è ovvio che stanno cominciando ad aggiustare tutti questi sistemi anche per queste bombe più pesanti è ovvio che una bomba da 3 tonnellate è completamente un discorso diverso per la fisica chiariamo non sono 3 tonnellate di esplosivo sono 3 tonnellate nel complesso 1500-1600 kg di esplosivo il resto ghisa e detonatore però è ovviamente qualche cosa di interessante per il tipo di velivolo che può trasportare eventualmente delle bombe di questo genere non può portare per esempio 4 fab da 3 tonnellate ecco questo possiamo scordarcelo ne porta una ne porta una e altre bombe assieme se uno vuole ma non della stessa portata sì d'altronde io credo che un lancio multiplo di fab 500 non abbia un effetto diverso da una fab 3000 no appunto anzi la dispersione di un sistema del genere sul terreno poi fa in modo che ci siano ancora più vittime probabilmente ma poi bisognerebbe avere delle telecamere sul campo e un'osservazione completamente diversa dipende probabilmente dalla tipologia del bersaglio che puntano che richiede magari una diversa tipologia di colpo diretto su Volciansk ho visto una 3000 che esplosa la 3000 infatti la stavo puntando proprio adesso accanto a un laghetto artificiale e io ho visto parte di quell'acqua vaporizzarsi sì guarda è proprio questa non so se riesci a vederla penso di sì sì è un edificio sì è quello con il laghetto artificiale sì esattamente quella di cui parlavo poco fa ho visto l'acqua vaporizzarsi di fronte sì ce ne sono anche altre se non sbaglio questo è l'esito come vedi non c'è il il cratere il cratere nel terreno e questo mi dice che probabilmente esplode prima del contatto col terreno proprio per amplificare al più possibile l'effetto dell'onda d'urto lateralmente invece se esplodesse dopo il contatto col terreno penetrando creerebbe un'onda d'urto che ripara chi è vicino ecco mentre esplodendo a mezz'aria ma infatti dicono che a 70 metri da un'esplosione di quel tipo lì nessuno si salva no perché l'onda d'urto tale che ti devasta gli organi interni non riesci più a respirare e muori di fatto ecco quindi quello che succede è che gli ucraini stanno spingendo verso nord ovest in questo senso ma stanno avanzando Stefano perché l'immagine che vedo è molto simile a quella della volta scorsa e anzi i russi hanno qualcosa in più sono bloccati lì i russi sono riusciti a penetrare all'interno della zona industriale in questa zona più a sud non ci sono stati grossi cambiamenti qua sono avanzati leggermente i russi qua sono avanzati leggermente gli ucraini non c'è c'è una sorta di stallo resta comunque da capire che ad esempio i russi mantengono queste posizioni più elevate e gli ucraini cercano di avanzare sia sul lato est sia dal lato ovest con delle forze perché vogliono a tutti i costi recuperare questa posizione più elevata e chiaramente si concentrano e qui arrivano poi i colpi delle bombe plananti russe dell'artiglieria dei TOS che hanno colpito come vedete in questa zona qui hanno colpito pesantemente i TOS evidentemente anche i russi rispetto al periodo di Avdeevka hanno trovato il modo di portare i TOS più a ridosso del fronte perché se ti ricordi erano un bersaglio prediletto dei droni FPV ucraini e quindi come cercavano di avvicinarli sul fronte di Avdeevka venivano poi colpiti e distrutti da fonte del ministero della difesa Stefano visto che stanno cominciando a usare i TOS 2 che sono più lunghi che sono più lunghi rispetto ai TOS 1A non sono cingolati come il TOS 1A quindi più lenti da nascondere e così via e sono su gomma permette loro di scappare via subito dopo aver lanciato i missili termobarici tra l'altro stanno aumentando anche i sistemi dei cannoni malva che sono in 152 a lungo calibro su ruota velocemente posizionabili facili da costruire perché hanno meno parti rispetto a un mezzo semovente blindato e quindi sono più economici e più veloci da spostare hanno anche una bella portata una bella gittata credo fuori dalla portata dei droni FPV perché sparano a una quarantina di chilometri di distanza mi sembra e quindi poi si muovono e si spostano e non non vengono colpiti mentre i Lancet continuano a fare danni nelle nei settori ucraini soprattutto ho visto distruggere un I-Mars in questo settore qua io ho visto saltare un I-Ris-T ieri Stefano e anche è stato colpito anche i radar sono stati colpiti per l'artiglieria che sono difficili costosi non avevamo appena mandato un I-Ris-T noi no noi non abbiamo l'I-Ris-T se non sbaglio ah no hai ragione è un Sam-T ok quindi è un mezzo tedesco che hanno fatto fuori e qui invece è stato distrutto proprio c'è il filmato che segue l'I-Mars fino poi al momento in cui arriva il missile che lo che lo distrugge Iskander forse un Iskander sì e quindi anche questo non è il solo tra l'altro che è stato colpito in questo periodo perché hanno visti alcuni alcuni due o tre diversi in diversi casi negli ultimi dieci giorni che sono stati distrutti quello che mi hai descritto adesso era quello cingolato che si è nascosto nella foresta e me lo ricordo perché l'abbiamo condiviso anche noi gli altri forse no sì erano precedenti quelli uno era sulla zona di Kherson se ben mi ricordo gommati quelli vero gommati gommati poi vabbè ci sono sempre degli scontri nella zona tra Kupiansk e Krimennaia avevano detto che ci sarebbe stata una grande offensiva accumulati 10.000 soldati tra Krimennaia e Kupiansk io sinceramente non ho visto i segni di questa di questa offensiva c'è la pressione che i russi fanno sempre sui vari punti per avanzare in questa zona in quest'altra che abbiamo visto ma non grandi offensivi o grandi unità ecco non non capisco sembra che ci sia una foga da parte di alcuni canali nel cercare di dare delle notizie che non esistono sensazionali diventano sensazionali clickbait come li chiamano che come quando hanno detto poi dopo ci arriviamo l'offensiva su Torets che in realtà mi è sembrato più un qui pro quo degli ucraini che ha dato un'opportunità alle unità russe che hanno immediatamente approfittato di questo di fatto non hanno quasi combattuto per prendere quei territori adesso ci arriviamo il fronte di Saccovanzetti invece vede Razdolovka praticamente conquistata notizia in esclusiva perché è di stamattina ieri stava cedendo oggi è stata conquistata ed è stata posta la bandiera nel settore centrale del villaggio centro nord del villaggio ieri era stata posta in questo settore o l'altro ieri in questo settore qui a sud a sud est e oggi invece l'hanno posta in questa zona qui e quindi come si può ben immaginare si sono arrivati fin qua il villaggio è bello che preso è bello che preso con buona pace delle difese ucraine e adesso preso questo caposaldo importante si apre una strada verso una serie di villaggi che vediamo qua che aprono la via verso come vedete in questa zona qui preso tra la ferrovia da un lato e la superstrada dall'altro arriviamo alle spalle in questo caposaldo molto importante alle spalle di Siversk e ripeto per prendere Siversk non devi puntare a Siversk ma devi puntare alle sue spalle e prendere prendere le colline dietro a Siversk a ovest di Siversk perché se ci arrivi da est a parte tutte le difese ucraine ben posizionate non la puoi poi tenere perché sia a nord che a ovest le posizioni delle colline sono più elevate della città è importante quindi era molto importante capire anche la tenuta delle forze ucraine che se fossero riuscite a tenere Razdolovka visto che non c'è una grande presenza russa a sud di quella linea sono piccole unità presenti ecco che riuscendo comunque nonostante tutto a prendere Razdolovka significa che sono meglio piazzate rispetto agli ucraini e che quindi la possibilità di avanzare verso le spalle di Siversk è concreta sicuramente non in linea diretta attraverso le fortificazioni ucraine ma girandole da sud andiamo ora ad Artyomovsk abbiamo che ci sono degli assalti ancora nel centro del quartiere Canal che non è Veneto e hanno preso la zona completato la cattura della zona boschiva a sud rimane sempre il problema per poter avanzare in Calinina che se non catturi la zona boschiva a sud di Calinina ogni tentativo di infilarsi come hanno già fatto oltre la linea del canale è solamente temporaneo perché una linea risicata stretta come quella è impossibile da tenere soprattutto se non hai il controllo delle zone boschive questa in particolar modo a nord questa a nord di Calinina e soprattutto questa qui a sud sembra più una ricognizione vero Stefano quello che ha fatto era stata una ricognizione esatto devono quindi conquistare un'ampia fetta di questo settore quindi completare la conquista del quartiere Canal e poi allora e solo allora possono avanzare su Calinina tenerla stabilmente e quindi oltrepassare il canale nella zona in cui è tombato perché altrimenti ogni altro tipo di operazione è solamente temporanea qualcuno tempo fa aveva scritto si apre la tenaglia su Crivoi su scusatemi Ciasoviar io non l'ho mai vista la tenaglia verrà verrà ma per ora non è apparsa ogni tanto mi mandano le veline sì le veline i screenshot di altri commentatori e alle volte dicono delle cose giuste alle volte mi faccio delle grasse risate allora sul fronte di Toretsk sul fronte di Toretsk io ho esaminato la disposizione delle forze russe e non ho trovato cambiamenti cambiamenti in termini numerici e di unità nel complesso sono sempre le unità adesso ti faccio vedere no la vedi già la pagina di Gorlovka sì sì la vediamo ok la pagina di Gorlovka questo è il settore tra Schumi e la stazione di pompaggio che vede una unità Bars 11 cubana quindi non di sicuro un'unità differente sono poi la ventinovesima fucilieri 269esima battaglione fucilieri forze sempre territoriali la 1168esima sempre qui della zona sempre qui della zona alla 1436esima sono tutte le forze di difesa normali sì non vediamo per cadutisti a forza viotrasportate o cose cose più serie che arrivano da fuori queste sono le semplici forze che erano schierate a difesa di Gorlovka in questo settore che hanno visto debole il settore ucraino è debole perché qui c'è adesso vediamo un attimo se riesco a inquadrarla la 28esima brigata meccanizzata la 21esima ecco scusate questo è il 210 battaglione questi sono stati spostati questi da dal fronte di Artyomov ve li ricordate che erano posizionati vicino a Klischkevka ecco sono stati spostati più a sud a rinforzare il settore poi qui c'è anche la 46esima brigata separata che è quella che doveva essere sulla zona qui di Schumi ecco questa è stata arretrata in quanto pesantemente colpita e ha subito quindi poi nelle retrovie c'è la brigata presidenziale anche ha subito perché aveva subito troppe perdite nel mentre che alcuni di questi reparti quindi arretravano dovevano arrivare le unità in sostituzione in particolar modo queste e si vociferava anche dello spostamento della 24esima brigata che dovrebbe essere nella zona qui di dalle parti adesso la cerco un attimo di Artiomos che eccola qui la 24esima brigata meccanizzata in realtà è un battaglione della 24esima brigata meccanizzata però doveva essere spostato più a sud qualcosa non ha funzionato e di fatto è rimasta in gran parte sguarnita e infatti sono avanzate le poche forze presenti sul posto sono avanzate hanno conquistato la stazione di pompaggio sono arrivati a prendere alcune posizioni alla periferia di Pivniczke e il villaggio è quello che è le quattro case chiamate Shumi ecco torniamo alla nostra mappa e vediamo che appunto non è che abbiano fatto nient'altro che cercare il avevo anticipato anche questa mossa in una live qualche giorno fa e cioè avevo detto che avrebbero cercato di prendere anche questo settore a ridosso del canale semplicemente ma non credo che si vada oltre perché non è un'offensiva non ci sono i numeri per garantire qualcosa e poi vi immaginate cosa vuol dire avanzare con poche forze all'interno di villaggi che sono preparati da dieci anni e linee di difesa fortificate rivolte tutte verso questa zona preparati in dieci anni una follia sarebbe no è un assalto frontale che costerebbe la vita moltissimi la zona di New York ad esempio altrettanto ben difesa e ha resistito anche all'inizio se ti ricordi a diverse pressioni offensive che non hanno avuto esito molto diverso sarebbe invece avanzare da sud per prenderle di infilata perché sono rivolte tutte a est la linea d'attacco principale resta per ora sempre quella di marciare verso nord attraverso questo settore qua che ti porta direttamente alle spalle della grande fortificazione di Toresk e direttamente poi a contatto con Kostantinovka e allora si potrebbe parlare di una pinza perché se prendi Ciasoviar puoi arrivare direttamente a Kostantinovka e se avanzi da sud arrivi verso Kostantinovka ma soprattutto avvicinandoti poni in accerchiamento di fatto di tutto questo settore di fronte che è difficile da prendere e quindi ne causi il collasso perché intercettando e rendendo impossibile il rifornimento delle unità queste degradano a tal punto che decidono di ritirarsi poi o autonomamente o ricevono l'ordine di farlo per salvare le unità in questa zona è stata completata la conquista di Novalexandrovka nonostante i contrattacchi ucraini sono stati tutti respinti è stata completata del tutto nuovamente la conquista di Kostantinovka le forze a sud si sono allargate le forze russe anche a nord come vedete in questa zona hanno affiancato questo punto fortificato e si preparano a prendere il controllo poi di questa zona qua più a sud Sokol è stato interamente preso è stato preso l'importante punto fortificato con le trincee come vedete molto ben costruite a zigzag con punti fortificati punti di piazzole per mortai i ricoveri questi sono ricoveri per munizioni o ricoveri per i soldati coperti piazzole di mitragliatrice che sono in giro un po' dovunque vedete queste qui sono punti di fuoco coperti riparati eppure nonostante ciò è stata presa ora gli ucraini hanno perso interamente questa zona Sokol poi è una zona che dà il via ad altri l'accesso ad altri villaggi per completare lungo questo tratto di fronte un accerchiamento delle forze all'interno di questo saliente di fatto ecco i russi stanno avanzando dal fianco est per ora sono posizionati lungo questa depressione nel terreno potranno avanzare anche da nord girando quindi le forze russe in questa zona Novo Pocoprosche è stata presa non è stato ancora catturato invece questo complesso di villaggi che invece è molto importante più a sud abbiamo visto come siano avanzati i russi ancora a ridosso molto a ridosso prima era spostato più in qua nel saliente di questo settore che una volta era l'unico settore che si pensava di poter conquistare adesso guardate sopra che cosa c'è che evoluzione il fronte era qui per capirci e adesso tutta questa zona è stata conquistata abbiamo Karlovka che è sotto attacco qui è stato distrutto ad esempio un blindato russo Karlovka è sotto attacco stanno puntando a premere su questa zona per prenderne il controllo e costringerli ucraini a uscire attraverso questa zona qui liberando tutto il settore interno della sacca più a sud i russi sono stabili come fronte non hanno preso ancora questa fattoria che è importante per chiudere la presenza ucraina in questo settore c'è un altro avanzamento adesso ve lo faccio vedere nella tre giorni delle forze russe verso nord su Krasnogorovka gli ucraini hanno richiamato in questo settore a nord dei rinforzi vediamo un po' se la mappa già lo riporta per caso perché hanno richiamato anche qui delle unità no non lo riporta delle unità di qui c'è la 46esima brigata mobile aeromobile quindi paracadutisti sono hanno portato dei coscritti forze mobilitate vediamo come si comporteranno ho letto questa questa notizia questo aggiornamento che sono arrivati rinforzi però vuol dire che stanno anche un po' attingendo a quelle che sono le riserve perché se stanno già mandando i coscritti vuol dire che non c'è molto d'altro da spostare però sono importanti risorse perché vuol dire che non spostano più unità da altri fronti tenete presente è evidente che stiano puntando tutto su quella che potrebbe essere la controffensiva di carico al momento sì esatto però ricordate che il problema grosso per gli ucraini sono i mezzi non tanto gli uomini e i soldati ben addestrati ecco quello è il problema quelli scarseggiano di truppa e di carne da cannone ne hanno quanto ne vogliono a milioni ne possono prendere più a sud più a sud vediamo come le forze russe abbiano stabilito bene un fronte su Gheorghevka e quindi Maximilianovka appare nel mirino noto che stanno bombardando con degli Skander le zone nelle retrovie qui c'è Kurakovo se non sbaglio sì Kurakovo esatto dove hanno colpito degli depositi e aggregazioni di forze ucraine più a sud i russi hanno Novomikailovka qui c'è Kostantyanovka che è nel bersaglio come vedete le forze di difesa ucraine si sono portate ormai a ridosso della città hanno alle spalle quindi il perimetro urbano qui a nord i russi dovrebbero avanzare ancora un po' per pareggiare la linea e posizionarsi meglio per avanzare a nord di Kostantyanovka a sud stanno avanzando pian piano colpo dopo colpo si portano più avanti in questo settore della campagna non ci sono villaggi quindi è difficile per gli ucraini creare delle posizioni difensive forti e viaggiano in direzione di Vodiane di fatto si stanno pian piano avvicinando anche qui erano in questa zona negli ultimi due mesi tre mesi sono avanzati pian piano verso ovest non sembra tanto come spostamento oppure se uno spalma questo su tutti i fronti sono dieci chilometri ma se uno spalma anche questo su tutti i vari fronti che sono in avanzamento insomma sono tantissimi i chilometri che sono stati fatti e più che altro ripeto sono le risorse che vengono impiegate sul fronte per cercare di rallentare l'avanzata russa che è importante continuano la pressione offensiva hanno individuato dei bersagli dal lato ucraino e li colpiscono c'è stata una Volnovaca è stata interessata da attacchi con droni e missili ucraini poi abbiamo avuto Tangarok anche attaccata e infine l'attività di droni russa sul fronte sud rimane molto presente quindi questo fronte a mio giudizio potrebbe rappresentare una sorpresa da qui a poco fai vedere sull'altra mappa Stefano per favore così vediamo anche quante persone sono impiegate su quel fronte sia da un lato che dall'altro certamente come vedete questo è il fronte di Velika Novosolka come vedete ci sono molte unità russe presenti anche ucraine che sono rimaste in questa zona ma sono quelle presenti già dall'offensiva dell'estate scorse quindi sono unità che hanno subito pesanti danni questa è la zona di Rabotino quindi che ricordiamo è stata completamente presa dalle forze russe e qui abbiamo la zona di sud come vedete nominalmente è meno presidiata ma sono unità intere c'è il centotrentesimo battaglione a ricognizione qui c'è una brigata no è un battaglione separato anche questo e poi abbiamo una unità di montagna questa è la brigata d'assalto da montagna centoventottesima che è stata ricostruita per l'ennesima volta e alla quale è assegnata praticamente il grosso del lavoro della difesa di questo settore però ripeto le forze russe presenti qua sono sono sufficientemente numerose da poter rappresentare un rischio di apertura di un di un fronte vediamo un po' come sono le fortificazioni ucraine in quest'area te le faccio vedere su un'altra mappa hanno avuto tempo di scavare o allora queste sono le le attuali fortificazioni ucraine in questo settore abbiamo quindi i settori rossi che sono quelli aggiunti e quelli verdi che erano presenti prima da questo punto di vista direi che siano discrete fortificazioni ma assolutamente non paragonabili a quelle che avevano preparato i russi per reggere l'offensiva estiva dell'anno scorso che ricordiamo era in pieno svolgimento proprio in questo periodo se ben mi ricordo era partita il 4 di giugno immagino adesso non ho i dati precisi ma siamo in stagione come vedete hanno cercato di fare tre linee di difesa anche loro appaiono meno dense rispetto a quelle russe e nel settore di Velika Novosolka ancora peggio nel settore qua come vedete per arrivare a una linea di difesa si deve raggiungere una nuova linea di villaggi perché in questo settore qua che ne è completamente privo non avevano modo di farlo si può notare come ci sia in giallo le recenti acquisizioni di territorio scusate in verde fosforescente le recenti acquisizioni di territorio da parte russa e quelle più recenti che sono territorio grigio sono quelle che non sono più in blu e quindi come vedete si stanno ampliando ulteriormente quelle questa è la zona di Adveefka parla da sola ecco questo è è una perdita di terreno e soprattutto di materiali e soldati ben addestrati perché erano stati portati qui in massa per reggere e che ormai gli ucraini non hanno più questa è la zona di Artyomovsk questo è il settore di Saccovanzetti come vedete ci sono gli avanzamenti lungo là manca ancora Rozvolovka a dire il vero in questa mappa qui non è aggiornatissima proprio all'ultimo giorno no però ci dà un'idea chiara però ci dà una chiara idea di dove siano avanzati dall'anno scorso a quest'anno i russi che non abbiano perso alcun terreno tra le altre cose come vedete qua ci sono tutti i settori grigi che sono quelli di più recente acquisizione e questi già consolidati invece nel settore fino lì e poi c'è la zona qua a nord e come vedete la zona del fronte nord non aveva buone difese nonostante la propaganda ucraina parlasse più delle fortificazioni su questo settore di fronte in realtà la fortificazione di questo settore era alquanto precaria questa è nella zona di Sumi era alquanto precaria e poco numerosa mi chiedo dove siano finiti tutti i soldi se lo chiedono a tutti sia gli ucraini che i russi che quelli che gli hanno dati cioè noi anche bene esatto benissimo e credo che abbiamo detto tutto perché poi c'è un fuoco che dura da un paio di giorni sul settore di Odessa perché dopo l'attacco sulla spiaggia di Sebastopol facci vedere la spiaggia Stefano così vediamo anche la distanza da eventuali zone militari perché chiaramente ne abbiamo parlato prima e vale la pena mostrarle adesso eccola qua come vedete nelle vicinanze c'è solo il parco divertimenti non c'è nessuna installazione difensiva nelle vicinanze a sette chilometri di distanza verso nord c'è un aeroporto ma non è di sicuro una deviazione cioè un missile deviato da una difesa antiaera può arrivare a colpire questa zona qua sì ma siamo nelle centinaia di metri di caduta massimo un chilometro non vai a fare sette chilometri e mezzo e poi non esplodi in aria lanciando le tue testate in giro per la spiaggia qua nelle vicinanze ci sono solo case di villeggiatura questa è una scogliera quindi queste sono case sulla scogliera picco sul mare che deve essere anche bello da vedersi non c'è zone residenziali zone residenziali non ci sono installazioni militari in questo settore punto e qua è arrivato il missile il missile mirava questa spiaggia fine non è una discussioni da fare riguardo non è una deviazione perché gli I-Mars non sgarrano di sette chilometri e mezzo parliamoci chiaro o sono delle cioffeche del cavolo veramente o era mirato lì quello che gli ha dato le coordinate si è sbagliato diranno sì e quindi è pacifico che si sia trattato di un atto di terrorismo un crimine di guerra fine del discorso e le altre zone invece di cui abbiamo parlato sono in questa zona qua il Dagestan scusatemi e come vedete su questa zona corre anche la ferrovia che porta a sud lungo poi la frontiera dell'Azerbaijan scende e arriva in Iran da cui poi scende verso sud fino al Golfo Persico mi sembra Bandarabas o qualche altra installazione dovessero mai costruirla che dà direttamente sull'Oceano Indiano come è il progetto di fare tra l'altro ho dubbi abbastanza fondati che la serie dei terroristi non sia stata completamente liquidata e ce ne siano centinaia che sono pronti ad azioni di questo genere probabilmente sì probabilmente sì ricevono abbondanti fondi e armi dall'Occidente perché chiaramente se in una zona ex-sovietica dove c'è stato tra l'altro terrorismo guerriglia o altro per armarti vai a prendere dei car 15 che ti devono dare le munizioni perché sono diverse da quelle sovietiche costano l'era di Dio mentre invece i kalashnikov li trovi a poco sono efficaci tanto quanto quindi te le hanno portate da fuori a quelle chiaramente In chiusura Stefano stavi aprendo una parentesi su Odessa Sì su Odessa che cosa è successo che è stato colpito un centro industriale che ha causato un pesante incendio come vedete c'è questo centro industriale che ha dato il via a un incendio che è durato per parecchio tempo ecco lo vediamo qua probabilmente c'erano stoccati munizioni missili e cose simili eh sì perché è un centro di logistica e si sa che usano quasi sempre questi centri per stoccare poi armamenti o altro e questo è quanto torna un po' che è visibile Stefano così ci salutiamo benissimo eccomi qua aspetta devo darla conferma ecco perfetto non sono tutte belle notizie purtroppo soprattutto quelle che riguardano l'unione europea sì gli attentati l'unione europea e quello che ci aspetta nei prossimi mesi ovviamente si sta scaldando anche il panorama geopolitico con tutto quello che succede le minacce di un escalation sono costanti speriamo di riuscire a registrare ancora e ancora senza essere bloccati anche noi perché tanto stanno fermando tutte le fonti che parlano diversamente dalla loro narrativa siamo nel mirino che ti devo dire come metto uno straccio di pezzo di video di qualche tipo arrivano le segnalazioni da youtube che non va bene perché stai usando del materiale che non va bene quindi te lo limitiamo cominciano anche a comportarsi così con te a me censuravano semplicemente risposte ai commenti tutte naturali senza offese o insulti eppure mi censura quindi io non posso come fanno altri invece mettere dei pezzi di video che spiegherebbero meglio magari una situazione devo spiegare la voce non è sempre semplice ecco proverò a farli altrimenti vediamo se qualche cosa si può fare comunque va bene Sasha credo che abbiamo detto tutto speriamo che la settimana prossima ci sia meno da dire che cosa ti devo dire vediamo adesso poi ci metteremo d'accordo per la settimana volentieri benissimo ti abbraccio Stefano un saluto un saluto a tutti un saluto a tutti gli ascoltatori che sono sempre numerosi grazie per i vostri commenti ma si trepa esatto a posto a presto ciao Stefano ciao 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 ciao